È stata rifugio, è stata di base a ricerca continua. È stata una scopetta, per me è stata una casa unica. Questo è un posto molto speciale qui a Rovereto perché credo che da danzatore comunque ci sia una mobilità costante nel cervello e nel corpo. Però abbiamo bisogno di qualcosa che ci consenta di praticarlo. È stato qualcosa di incosciente nel senso di legato all'inconscio più che incosciente. Ad un certo punto gli esseri umani hanno iniziato a fare questa cosa apparentemente inutile che era danzare e raccontarsi delle storie. È il nostro DNA che è il depositario ultimo di questa domanda, cioè che funzione ha l'arte nella nostra vita. Non potremmo essere umani se non ci fosse. È qualcosa di ancestrale, qualcosa di primitivo sicuramente. La domanda del secolo, che cos'è la danza per me? Grazie. 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 Grazie.